Ciao a tutti, mi hanno dato da provare un nuovo tipo di paglione, lo vedete, è un paglione costruito per ora artigianalmente con un interno in materiale plastico e devo dire che si comporta in modo egregio, diciamo che è ancora un prototipo, però diciamo lascia ben sperare per un utilizzo futuro. L'abbiamo provato qua in palestra per un po' di tempo e a quanto pare perlomeno questo prototipo qua dura tantissimo le frecce si estragono con molta facilità anche per quanto riguarda i compagni, non si rovina, è protetto diciamo da questa parte sintetica che fuori si richiudono, è da molto che lo stiamo usando e non ci ha dato ancora nessun tipo di problema. Diciamo dobbiamo aspettare il prodotto definitivo ma è un'anteprima che vi propongo e poi eventualmente lo rivedremo meglio. Intanto vediamo qualche tiro a 5 metri e vediamo come effettivamente si comporta. e come frecce all'attacco non è stato male, il classico. vediamo come si estragono, praticamente con una dita si tolgono. Qui vedete che sono penetrate così e non è niente male. Per ora non è niente male. Prossimamente una recensione più completa.